Gli odierni sequestri per equivalente restituiscono alla collettività un'ingente somma di denaro di circa 54 milioni di euro. Denaro che era stato sottratto all'erario da un sodalizio criminale partenopeo che attraverso una complessa frode fiscale era riuscita ad acquisire nel giro di pochissimo tempo il più grande deposito di oli minerali d'Italia, con sede a Trieste. Aveva poi sfruttato questo deposito per poter piazzare e vendere sull'intero territorio nazionale carburante a basso costo, tax free. Di fatto divenendo nel giro di pochissimi mesi leader incontrastato del mercato quasi monopolista e mettendo fuori gioco tutti gli operatori onesti di settore.